Eccolo qua Miracle pronto a tentare appunto il 4 a 0 in questa prima sfida di playoff contro i Miami Heat Attenzione, assolutamente pronti a tutto Cazzo c'è l'ambulanza Attenzione, palla 2 Inizia bene perché la palla va verso Rose Derrick, bravissimo Vieni qua Giacchino, bravo, bravo Giacchino Boom Shakalaka Subito, la prima azione Una schiacciata di Miracle, stava andando fuori però, che brutta Poteva essere un po' più bellina però Sì ma Derrick, a me questo inizio di gara non è che mi piace molto Attenzione Miracle, boom Ancora Attenzione In faccia a Bosch, la tripla, 9 punti Di Miracle Man e 9 punti di Chicago In questa prima parte di primo quarto Ancora Dang da solo, dall'angolo sbaglia, rimbalzo di Miracle Dai che ripartiamo ragazzi però Vi voglio ingombrati, vi voglio con me, dai Oh Boom Lì Gasol doveva fare il blocco però Sono riuscito lo stesso a brasare In velocità Wade però Attenzione a McRoberts che prova ad entrare Vediamo McRoberts sicuramente ad entrare il tiro forzato Ma lo segna lo stesso Ma lo segna lo stesso For 3 And that's good for Tara Brose Just 5 to shoot Heimerick's got his first bucket of the game Second free throw, no good And the Bulls, another 3 Six points and did his work from a pair of lines From both beyond the arms and from the charity Absolutely incredible numbers from him In a game you didn't want to miss He's gotta be feeling absolutely unstoppable Again Chicago We're now about 2 minutes into the second quarter And the Bulls Heimerick kicks to Bosh Buries it from 3 point ring Bosh has got 7 points in the game Heimerick outside Miracle man A 3 ball Good And Heimerick gets the assist Miracle man Here's Napier He takes it to McRoberts Trills the 3 pointer Nick Roberts has got the lead up to 7 out They need this Foul call that time on the way up That'll give him 2 chances at the free throw line here Yeah, he got whacked Shouldn't be much debate on that one Yeah, that was as great forward as a good guy Ancora Miracle Questa volta per McDermott Spettacolare passaggio di Miracle E McDermott McDermott Riesce a guadagnare due liberi Molto importanti per la squadra Perché c'è una grossa possibilità di passare in vantaggio qui Uno E due Alla fine prova ad aiutarmi Gibson, vado via Oh No, cazzo Dang Dang è riuscito a fermarmi Provo a chiudere Su Napier Per cercare di raddoppiare e recuperare qualcosa Di importante Antenepier va via Fermato Fermato Grandissimi L'ho rubata io L'ho rubata io Andiamo Andiamo Derrick Sarebbe importantissimo segnare adesso Il fintozzo Il fintozzo Dang non ci casca E nessuno dei miei fintozzi Alla fine mi tocca passare la McDermott Che è un buon tripleggiatore E la piazza 65 a 61 Andiamo Bravo Tony Uh Schemini ingombranti Un po' rischiosi Ma ingombranti Né Pierre Per scola Scola un po' Perplesso Granger Bravo Porca miseria Sta facendo delle belle partite Granger Chalmers contro Miracle Chalmers Ci casca la prima finta Non alla seconda Infatti Miracle qua è un po' in difficoltà Alla fine deve passare a Kirk Kirk dentro per Gibson Gibson fa la cazzata Bravissimo Bravissimo Gibson Questo è il modo giusto Di affrontare le partite Ma porca miseria Ragazzi Quello è Wade Ma non è un pirla Da lasciare da solo Questo Eccola lì Granger da tre Sbaglia Ancora Miracle Ancora il rimbalzo Ormai il leader Indiscusso di questa squadra Vuole portarla lontano Chalmers ci casca Miracle Bam Posterizzato Granger Attenzione McRoberts Porca di quella miseria McRoberts Sbaglia Tony Con calma Tony Miracle Adesso Guardatelo Porta la squadra Tranquillamente Verso l'altra parte del campo Attenzione perché da solo Miracle Spam 74 a 66 E questo è un canestro decisivo Decisivo Time out Rose dai che sei da solo Bravo 78 a 70 Teniamo duro 28 punti 8 rimbalzi 8 assist Stoppata Su Chalmers Che però riesce a recuperare ancora la palla Attenzione adesso Cola Prova la tripla La mette Mannaggia Avevo appena stoppata Si sta svegliando di nuovo Miami Bisogna metterli a tacere No Chalmers Da solo no ragazzi No così No così Coach incazzatissimo Chiede il time out McRoberts Che non sbaglia Mai una tripla Ritornano in vantaggio Eravamo in vantaggio Di 30.000 punti Intanto Wade Non mi fa passare In nessun modo Ragazzi Ma neanche McRoberts Invece si Sbaglia tutto McRoberts E Miracle Prova A tenere Chicago In gara Ma tirare Non ho parole Tira Mc Che sei bravo Dai Va bene Va bene Dai Va bene Non ti posso dire niente Hai fatto Quello che dovevi fare In quel momento Attenzione E va bene Va bene Bravi Ve la siete giocata Alla stragrande Bravo Wade 93-84 Hanno giocato bene Si meritano questa vittoria Sicuramente Però Però Miracle Sempre Sempre Un passo sopra tutti Ragazzi Guardate le statistiche Uh il tiro Bravo Sì alla fine Ne me li piazzi Vabbè Oh 37 secondi Dai Grandissimo Ma cosa fate Oh 95-90 E' inutile anche Star qui adesso A fare falli Oh Attenzione Sbaglia anche il secondo No Coach qua ci vuole Uno schermino importante Cosa fa Un pazzo Un pazzo Derrick Rose è impazzito 96-93 Cadendo all'indietro Attenzione Dwayne Wade Piazza il primo Niente dai Ci abbiamo provato Però beh al finale Oh Eh raga Derrick Spam Spam Attenzione Attenzione Peccato 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 veramente Perché è stato un finale Di partita Incredibile Ragazzi È stato un finale Di partita Incredibile Peccato 97-96 Finalmente Miami riesce O almeno prova A riaprire la serie Con questa vittoria Di un solo punto Bene ragazzi Miami prova a riaprire la serie Con una vittoria Quindi 3-1 In questo momento Sulla serie Cercherò di capire Come stanno anche Le situazioni Delle altre squadre In modo da darvi Una specie di Quadro dei playoff Cerco di fare io Il quadro dei playoff Guardando un po' I risultati Delle altre squadre Questo episodio Finisce qui Ci vediamo Con Gara 5 Dei quarti di finale Contro Miami Heat Bella